Compiuto il cammino del finanziamento, illuminati dallo Spirito Santo e accompagnati dalla comunità, siamo venuti in piena libertà della casa del Padre, perché il nostro amore riceva il sigilo di consacrazione. Consapevoli per la nostra decisione, siamo disposti ad amarci e sostenerci null'altro per tutti i giorni della vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.